Allora, l'occasione di oggi nasce da una volontà da parte dell'amministrazione comunale di festeggiare nel giorno della festa degli innamorati, il 14 di febbraio, le coppie che quest'anno celebrano i 25 e i 50 anni di matrimonio, quindi le nozze d'argento e le nozze d'oro, come giornata in cui il comune dedica all'amore, ai sentimenti, al rispetto tra le persone. Abbiamo voluto festeggiare questa giornata qui all'antico ospedale del Bigallo, quindi in una cornice bellissima di Bagnarripoli, in cui tutte le coppie che hanno festeggiato quest'anno, che festeggeranno le nozze d'argento e le nozze d'oro, hanno ricevuto un piccolo omaggio da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale di tutta. Il lomaggio si è concretizzato in un piccolo quadretto che ci ha gentilmente realizzato Silvano Nanocampeggi, uno degli artisti più rappresentativi del nostro comune, e un libro con la storia del Bigallo. È stata una giornata molto bella, che si è conclusa con un rinfresco, in qualche modo uno spumante che voglia celebrare tutte queste coppie che hanno raggiunto un traguardo così importante, fatto di amore, di rispetto, di grandi sentimenti.